Ultimo giorno di Ski Pass, stand della Head, incontriamo Stefano che ci racconta lo sci più richiesto in questi giorni in questo stand. È uno sci che presentiamo quest'anno in esclusiva, abbiamo una nuova tecnologia, noi applichiamo il grafene a quello che è lo sci. Il grafene è un materiale che è molto noto perché è una scoperta negli ultimi anni, ha vinto premio Nobel lo scopritore appunto del grafene, ci permette, grazie alle sue caratteristiche meccaniche, ci ha permesso di poter alleggerire la struttura generale dello sci. Fate conto che in uno sci mediamente abbiamo ridotto di quasi il 25% il peso, ma soprattutto quello che ci ha permesso di fare questo tipo di tecnologia è di distribuire le masse in maniera diversa. Lo sci che ho in mano è uno sci destilato a fungo femminile, la distribuzione delle masse è stata fatta in modo da favorire quello che è la facilità di utilizzo senza però compromettere quelle che sono le prestazioni. Quindi, grande tenuta sul duro, grande facilità di utilizzo. Quindi è uno sci pista? Assolutamente sì. Assolutamente pista e lo possiamo usare su tutti i tipi di neve, anche su neve che sono già pomeridiani. Dalla neve dura della mattina fino a quella che è la nevaccia perché ha un profilo, è un suo camber, quindi un suo profilo anche longitudinale che consente massima facilità anche su nevi difficili. Bellissimo da vedere, ci credo che ve l'abbiano richiesto in tanti. Grazie mille Stefano. Ciao a tutti.